Può portare il pallone lateralmente, può crossarla da lì, Salah, palla buona per lui, Salah, cercano di rendersi minacciosi nell'area avversaria, sbaglia il rivio qui, 1-0 Attenzione a Di Bala, hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio Recupera in area, recupera importante E' un minzon, occhio al tiro, una botta tremenda Insuperabile oggi, Cantè in mezzo al campo, recupera l'ennesimo pallone Occhio all'avanzata E il pallone finisce in rete, pazzesco hanno trovato Tutto fermo, c'è la chiara potenzione di offside Ma la gara eccessiva staticità in area, così diventa facile da marcare Momo Salah, ovviamente, pericolo pubblico numero uno per la difesa avversaria Da un giocatore del suo calibre Ha provato la botta dalla distanza, ha trovato un gol spettacolare In tercera palla, vediamo se la sfruttano Occhio al tiro E c'è il gol Gara che potrete seguire, come sempre, con il nostro commento live Personalmente, sento che ci divertiremo E tendo a fidarmi delle mie sensazioni Giorginio C'è spazio per il cross Attenzione a Holland È entrato bene qui con decisione Da lì può crossare Salah, palla buona per lui Cerca la profondità qui Palla in rete Pallone invitante Palla morbida a scavalcare la difesa Prova a colpire al volo Inizio Sanchezza è ovvio Ma è fondamentale adesso mettere in campo tutta l'energia e cominciare ai supplementari Ecco Mendy Cante A spazio, prova E c'è il gol vicino da Deviazione in out Si ripartirà con la rimessa laterale Attenzione, può nascere qualcosa di importante Salah È un minzon Palla in rete Una distanza ma il pallone è uscito Una conclusione potente che vista la difficoltà avrebbe meritato di certo sorte migliore E invece è finita di poco fuori Peccato Grande apertura Risultato che torna in qualche modo in birico Pallone che viene intercettato Pallone che viene intercettato Palla che finisce dentro dopo aver baciato la traversa Possesso per Kraif Spazio per i Villars Prova a sorprendere il quartiere Non la blocca Alisson Attenzione si gioca Allontana di pugno Era dell'aria La tripleta Coronamento di una prestazione Pazzese Porta via la palla con un ottimo tackle Prova l'imbucata per il compagno E c'è il gol che è di mezzo allo svantaggio Attenzione Non è ancora finita Interviene Riconquista il pallone Kimmich Può avanzare indissurbato E c'è il gol di Sané Ha messo il mirino Prova di forza per il possesso palla Taglia fuori bene qui la difesa con il lancio lungo E sul dubbio sarà calcio del gol che potrebbe valere pari Devo dire che l'ha contentato Perché questo ragazzo ha grandi qualità tecniche Secondo me può rivelarsi l'arma in più che mancava a questa squadra Perde palla qui Hollard Attenzione Qui c'è il rischio di un cartellino rosso Intercetta il tiro Traversa e gol E c'è il gol E c'è il gol Aumenta nel proprio vantaggio Grande Buono il recupero Possono ricominciare Cerca e trova il compagno E c'è un gol pazzesco Al volo Conclusione al volo che merita di essere vista e rivista Perché ha avuto la palla buona E non ci ha pensato due volte Potenza cambia il pubblico che evidentemente non ha apprezzato Viene sbaglia Pericolo Occhio a Dinatale Occhio a Modric È stato bravo a bloccare questa azione 60 secondi da recuperare Palla morbida a scavalcare la difesa E c'è il gol Accorciano le distanze Comunque un tiro irresistibile Questo mi ha detto Non riesce a liberare Palla ancora buona Occhio a Salah Bravo nel saltare l'uomo E non sbaglia Eccolo il primo gol del match Più che merita Tiro troppo telefonato Ci vuole ben altro per batterlo Attenzione alle Vandoschi E c'è il gol Due litri di vantaggio adesso Non cita Un ottimo risultato Supera il proprio marcatore Quale il cucchiaio L'ha messa dentro Con un tocco morbido A scavalcare il portiere Hanno aperto le marcature Con questo gol 1-0 Prova il tiro in porta Nessun problema al portiere Vediamo cosa inventa ora C'è spazio davanti Bolla in rete Non hanno perso tempo Occhio al contrapiede qui Ottima visione di gioco qui E adesso sono in vantaggio Prova il suo lavoro